La vicenda di Massimiliano, 44enne toscano, che è stato accompagnato in Svizzera per essere suicidato assistito, merita alcune riflessioni. La notizia è in breve. Un malato grave con importante disabilità desidera togliersi la vita in maniera indolore e viene accompagnato da sedicenti attivisti e bioeticisti in Svizzera a farlo dove è possibile per legge. Nessun giudizio morale. Il suicidio è uno dei gesti più misteriosi, più intimi, più insondabili della mente umana. Nessuna valutazione giurisprudenziale sul presunto reato di aiuto al suicidio, di cui si sono autoaccusati gli accompagnatori. Non ne abbiamo la competenza. Ci permettiamo però di essere colpiti, anche un po' infastiditi e persino irritati, diciamola tutta, dal clamore, dal rumore, dalla gran cassa mediatica suonata per qualcosa che invece doveva rimanere assolutamente intimo. I media riportano poi che fosse ammalato di sclerosi multipla. Sicuri, diciamo noi, non sarà stata per esempio sclerosi laterale amiotrofica o aterosclerosi o sclerosi supranucleare progressiva. Sì, perché a noi risulta che la sclerosi multipla è ben curabile se tempestivamente diagnosticata. Posso personalmente testimoniare di decine di giovani curati eseguiti presso i nostri centri clinici che pur affetti da sclerosi multipla da diversi anni hanno una vita piena con lavoro, figli, carriere, gioie. Il clamore è servito per fare pubblicità all'attivista e al bioeticista e alla loro associazione, bene, anzi male. Provate a pensare un attimo come a questa notizia avrà reagito un ragazzo di vent'anni cui è stata appena diagnosticata la sclerosi multipla sentendo che un uomo affetto dalla stessa da otto anni abbia voluto invece rinunciare alla vita per impossibilità di accettarla per dolori e disabilità. Grazie a tutti.